Ho parlato con un mio follower su Instagram che ha commentato la mia storia in cui commentavo il correttore dal romano a italiano e vabbè un discorso dirà l'altro, in verità molti mi avete commentato questa cosa, ciò significa che voi molti che l'avete commentata non avete comprato il mio libro però ecco questo è il discorso, molte persone mi hanno scritto chiedendomi il motivo del perché ho scritto il romano in libro vi dirò un motivo in un altro video, c'è una cosa che mi ha fatto pensare, tutti dicono ah ok fine l'idea, allora comprerò il tuo libro appena uscirà raga io non ho già scritto uno, io ho scritto in totale due libri, il primo è quello mitologico scritto in romano, un secondo invece è un saggio giuridico quindi se siete incuriositi da questo modo di scrivere potete anche comprare il mio primo libro perché ho capito che molti non hanno capito io ne ho già pubblicato un libro, quello che sto scritto adesso, è il terzo in verità quindi se volete sussevermi fatelo senza rompere, la cosa mi rende molto felice, ne ho già scritto uno, il link sta sempre in vivo grazie a tutti grazie a tutti